Eccoci quasi a metà grotta Cilambalam Guardate dietro Il profilo, la linea di spigolo E' mostruoso Non sembra tanto strabiommante In realtà E' tutto un effetto ottico L'altezza effettiva della parete sono 50 metri lineari Quindi in traverso viene uno sviluppo mostruoso C'è un po' Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.